L'energia della rosa rossa e l'energia della rosa blu vi danno più forza! La rosa rossa della speranza! La rosa blu dei prodigi! I poteri leggendari ora diventano uno! Il fiore dell'amore sboccia per salvare la vita! Pretty Cure Milky Rose Floral Explosion! Distruggerò quel seme! Vi annienterò tutti! Pur combinando i vostri poteri non avete speranze! Siete nulla rispetto a me! Non è possibile! Sono riuscito a respingermi! Basta! No! E adesso che sta succedendo? Questo è il frutto di tutti i vostri sforzi? La nienterò contro di me! Non avete speranze! No! Cos'è questa forza inaudita? È quella che batte nelle Pretty Cure in tutte le creature che coltivano la speranza è la forza della vita! È il frutto dei cuori che...